Nel momento riguarda il suo partito, che risultato si aspetta? Cosa potrebbe soddiscarvi? È difficile fare una previsione che in questo clima anche di variabili molto imprevedibili non riuscirei a tradurre i numeri. A noi interessa ovviamente superare la soglia, che non è assolutamente impossibile a questo punto, anzi, comunque un risultato pieno, cioè un risultato che dimostri che l'unico partito che ha parlato d'Europa in questa campagna elettorale, siamo noi, sarà quello che è veramente proiettato dal suo punto, non da che guarda con lo specchietto retrovisore al passato.